Ezio e Kei Kei al Mont Charbaton nella valle di Champorchet che è sul primo tiro di Caterpillar 6b e l'ha fatto pulito. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao ragazzi! Champorchet vale! Champorchet vale! Caterpillar! E' il brutto è arrivato! E' il brutto è arrivato! E' il brutto è arrivato! E' il brutto è arrivato!